Sono Gabri Costa ragazzi, voglio darvi una bella notizia. Finalmente questa avventura è finita. Questo sesto atto di Asterix e Obelix Slap Them All è finito. Giunto al termine. L'abbiamo terminato questo sesto e ultimo atto. Bene, spero che vi sia piaciuto questo gioco Asterix e Obelix Slap Them All. Avete impedito a Giulio Cesare di compiere la sua vendetta. Bene, ora che l'avventura è finita e tutto è tornato alla normalità, possiamo festeggiare dopo la battaglia. Bene, io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Se il video vi è piaciuto potete condividerlo. Ma non dimenticate che io sono sempre Gabri Costa, il vostro amico youtuber. Da quando sono entrato nelle vostre case vi faccio sempre tante belle recensioni per voi, tantissimi video. Voglio che vi divertite sempre a casa vostra. Ciao a tutti.